Ciao, oggi faremo un video bellissimo. Faremo un equilibrio sulla trave, vuol dire ci mettiamo in piedi, mettiamo una bottiglia sulla fronte, la teniamo in equilibrio e camminiamo. Partiamo dall'inizio della trave e arriviamo fino all'inizio della carpetta. Vediamo chi riesce. Chi inizia? Vai Giadi. Eh? Da qua, sì. Trova l'equilibrio. Sì, brava. Vai Giadi. Ah, fermati, fermati. Vabbè, non ce l'ha fatta. No, no, vabbè, non ce l'hai fatta, ok. No, no, ma non facciamo, facciamo chi arriva là. Emma! Cosa c'è? Così, va bene. No, vabbè, un po' più avanti anche vieni, eh. Dai, posizionala. No, peccato! Ciao, Emma. Erika! Sì, la metti sul naso, Erika? Mettila bene sulla fronte. Vieto. Bra. Vieto. No. Bra. No, mettila un pochino più dietro, Erika. Devi fare come un classico, se la fronte diventasse un tavolino, ok. Ok, cambio. No, Erika. Debo. Sì, piano, prima trova l'equilibrio. Sì. Cambio, chi va? Miki. Miki. Peccato! Irene! Ieri, prima l'hai riuscita a fare un po'... Ah! Irene! Come hai paura? Ah! Con calma, prima trova l'equilibrio. Sì. 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 Allora, posizionate la bottiglia piano e poi piano stacchi le mani sul naso un po' dura, ok. tienila con due le mani, eh, ma? Trova l'equilibrio e poi molla. Eh no, non è in verticale, cioè, è così la bottiglia. Mettila bene. Ok. Questa è la justa quadrada. Non ce la fao! Cambio! E uno attraverso la canela e li da dama doveva. Fasceva così? Ahahah! Ahahah! Sì! 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 Letizia! Stando. 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 Ho la mano? Sì! Ci hai sul naso? Sì? niente chi va? e mina? è un po' troppo alta ok, metti più dietro la testa brava ok chi tocca? Bea chi manca? Bea? Eva? niente, Eva? peccato allora, chi va a riprovare? io vai, Emma riprovate se volete cambiare bottiglia trovare un'altra soluzione Emma dai, non fai la figura dai brava brava, brava mancano due passi, Emma si, ce l'hai fatta bravissima chi vuole provare? non ci vedo più vedo la bottiglia ma quindi è la bottiglia che era troppo piena? si vediamo già ok ok ci sei quasi ci hai fatta bravissima chi vuole provare Irene peccato Miki Miki ce l'hai fatta Erika ma c'è un tape sulla bottiglia nooo peccato devi piano vai piano vai piano vai piano vai piano vai piano vai piano brava emma ma cosa avete fatto ma cosa avete fatto peccato peccato ragazze letizia chi vuole provare ancora dopo la Leti Emma va bene vabbè dai quasi Emma e Mina e Mina va bene va bene va bene ma vabbè dai però hai fatto più di prima ma brave speriamo che questo video vi sia piaciuto lasciate tanti like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale ciao 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 ciao